Vediamo cos'è Attento Ehi, guardate, c'è un'aquila che caccia una pecora Ragazzi Cavolo, l'Himalaya Venite a vedere come è strano quest'animale, guardate qua È vero Che forza, ma come hanno fatto? Quella pecora è stata uccisa Che peccato, era così carina C'è un povero ragazzo che viene ucciso Fa vedere Oh, che paura Guardate, c'è una ragazza sexy che è scoleta Guardate, c'è una ragazza sexy che è scoleta